Il mio saluto dell'amministrazione comunale di Arco a tutti i cittadini della nostra città, a tutti i cittadini dell'Alto Garda, a tutti i telespettatori di Telegarda. Un saluto mio personale, ma che vuole essere il saluto di tutta l'amministrazione comunale, che porta un caloroso saluto di una chiusura di un anno, un 2015. Un 2015 che è stato intenso, a mio modo di vedere è stato un anno anche veloce, perché mi pare ieri che si chiudeva il 2014, quindi il 2015 è stato davvero un fulmine, come temporale poi, chiaro, un anno dura un anno e quindi sono tutti uguali. Però, insomma, è stato un anno in cui i temi si sono scanditi uno dietro l'altro. I temi più importanti, io parto dagli ultimi, il nostro ospedale, l'ospedale di Arco, su cui questa comunità si è interrogata, questa comunità ha voluto esserci in prima linea per poter dire, ribadire l'importanza di questa struttura, e che questa struttura, che rappresenta la sanità, quindi il bene più prezioso che abbiamo, rappresenta per questa comunità il fulcro, cioè un punto di partenza, si parte dalla salute, che è la cosa prioritaria. Quindi è stata una delle tematiche su cui ci siamo impegnati e anche se il mese di dicembre è stato un mese poco piovoso, è stato caldo dal punto di vista delle tematiche, benché sia un periodo freddo. Quindi l'ospedale di Arco ha visto un'intera comunità e il tutto ha avuto anche modo di avere discussioni in un consiglio comunale, prendere una posizione forte e rivendicare la sua importanza, quello che è quindi il tema fondamentale della vita di tutti, che è la salute. Quindi questa è stata la chiusura di un anno che però ha visto altri momenti intensi, come quando si è parlato di sanità privata, sanità privata con i suoi comparti che sono la riabilitazione post-operatoria e che caratterizzano la città di Arco, da sempre città di cura e benessere e si parte proprio dalla sanità privata che da sempre ha una sua storicità. Anche su questo si è avuto modo di discutere, di prendere delle posizioni, di ribadire l'importanza che ha la sanità privata, perché sicuramente per questo territorio vuol dire lavori, vuol dire pil, però vuol dire anche storia, vuol dire riuscire a fare sanità comunque a costi contenuti in quelli che sono un sistema sanitario che è sempre più costoso, però farla di qualità e quindi due tematiche che sono simili, la sanità pubblica che per noi in tutto il Garda Trentino è rappresentata dall'ospedale di Arco, accanto a una sanità privata che qua sul territorio di Arco ha una sua ossatura importantissima a livello provinciale. Queste sono state due tematiche forti che hanno caratterizzato quest'anno 2015, accanto a questo molti ricorderanno le poste di Bolognano, magari un tema che può da luni far sorridere rispetto ai due temi che ho appena sollevato, però anche su quello c'è stata una comunità che ha preso una posizione, quella di non voler perdere i servizi, la disponibilità a ragionare sì, sempre, con serietà, però non a depauperare tutto il territorio di servizi. Anche quella è stata una battaglia che per ora non ha dato i suoi frutti, però insomma rimaniamo sul pezzo anche per rivendicare come le singole comunità abbiano una loro identità, i loro servizi, quindi le singole comunità vivono. Quindi anche sulla posta di Bolognano è stata un'altra tematica calda. Poi voglio ricordare il collegamento, il famoso, mi piace chiamarlo collegamento con la Loppio Garda, anche questo è stato un tema che è stato oggetto di discussione negli ultimi periodi. Mi ha colpito vedere quasi un po' la comunità molto fredda su questa tematica, probabilmente c'è parecchia delusione e si tende a non credere più in questo collegamento, perché rispetto al passato ho visto poca discussione nella cittadinanza, ormai le persone dicono vabbè, non lo faranno mai o basta che si faccia qualcosa. Invece è una tematica che è fondamentale per un territorio come il nostro, anche quando parliamo di salute e sanità, se bisogna rivolgersi per determinati servizi a quello che è il roveretto, bisogna avere un collegamento che non può essere quello di Erno, che in determinate giornate va in tilt. Quanto meno su Nago è uno dei nodi cruciali che comunque con il semaforo, con alcune criticità che vi sono, va risolto. Mi ha stupito comunque vedere da questo punto di vista una comunità quasi disannamorata che non ci crede più e quindi credo che la politica su questo deve dare delle risposte serie e qui bisogna partire dalla politica provinciale perché è la politica provinciale che su questo decide e determina. Queste sono state secondo me le tematiche più importanti, accanto a questo mettiamo quello che è un altro tema fondamentale che è il lavoro, che tutt'oggi rimane una delle criticità, visto che sono numerose le persone che spesso si rivolgono a me o si rivolgono un po' all'amministrazione, alla ricerca di lavoro. Il fatto di dover arrivare qui, visto che il comune di per sé non è un ufficio di collocamento, vuol dire essere arrivati a un'ultima spiaggia, perché vuol dire aver provato tante vie e questo preoccupa, vuol dire che noi amministratori dobbiamo cercare tutti i modi possibili per creare lavoro, per creare e tenere in piedi questo sistema, visto che la Costituzione parla di lavoro già nel suo primo, nell'articolo 1 e poi insomma l'articolo 4 sancisce che il lavoro è un diritto, che ciascuno deve avere un lavoro per avere la propria dignità di soddisfare le proprie esigenze. La tematica del lavoro è sempre lì sullo sfondo ed è una tematica fondamentale che ci deve vedere impegnati nel costruire un sistema che consente di avere lavoro a tutte le persone. Questo tema talvolta non ci rendiamo conto della sua attualità e quanto è drammatico, perché comunque chi non ha lavoro purtroppo entra anche in fasi personali in cui perde anche proprio il benessere psicofisico, perché dal punto di vista non avere lavoro si perde tutto, è come quasi perdere la salute essere senza lavoro. Questo è un paragone che magari stride, però insomma ci deve far riflettere. Poi come amministrazione comunale è stato un anno di cui insomma discreto, siamo soddisfatti perché comunque abbiamo visto mettere in campo numerose opere pubbliche, dal parco delle Braile al numerosi tratti di marciapiedi rimessi in ordine, quindi è stato un anno anche positivo. Ha visto al centro un po' le scuole, quindi l'edilizia scolastica, quindi con numerose opere che hanno riguardato le nostre scuole e quindi un patrimonio scolastico è andato ad avere consolidamento. Quindi le opere pubbliche hanno avuto un anno positivo anche come le nostre risorse che sono sempre in contrazione, ma c'è un bilancio che è sano. Concludo con un augurio e con un messaggio che in questi giorni ho cercato di portare anche nei vari saluti, sotto le feste natalizie. Il messaggio è di una semplicità unica che non vuole essere di buonismo, di vedere le cose tutte positive, però l'attendere sempre che l'anno prossimo, il 2016, sia migliore del 2015 è negativo, perché credo che dobbiamo vivere al meglio il presente. Vivere al meglio il presente vuol dire cogliere il bene delle cose, di ogni cosa, anche le più negative, dobbiamo coglierne il meglio. Io credo che su questo dobbiamo dare un'inversione tutti di tendenza. È evidente che ci sono persone che stanno vivendo nei momenti particolari, chi non ha lavoro, chi sta affrontando una malattia, un familiare malato, quindi ci sono delle condizioni che fanno parte della nostra vita, e che sono negative. Però credo che tutti insieme dobbiamo riuscire a coglierne il meglio, perché altrimenti ci deprimeremo tutti avanti di questo passo, dicendo domani sarà migliore, il 2016 sarà migliore, il 2017 sarà migliore. Viviamo al meglio il presente e cogliamo nel meglio. Questo è un messaggio che mi sento di portare, che ho avuto moggio di raccogliere anche in questi giorni, in alcuni collochi. Mi ha fatto effetto un dialogo che ho avuto con una persona malata, che nonostante la sua malattia, il suo stato, è riuscito a trasferirmi un messaggio di positività, che non è la positività ilare di buttare tutte le cose cosiddette infanteria ridendo, non è quello, però è di cogliere il meglio della nostra vita e del nostro cammino. Ed è nel cogliere questo meglio che auguro a tutti i telespettatori di Telegarda, i miei migliori auguri di buone feste, di trascorrerli in serenità, di trascorrerli in famiglia, di trascorrerli con le persone a cui ci sono care e cercando giorno per giorno di prendere il meglio di ciascuna cosa che accade nel nostro lungo cammino, e mi auguro che sia per tutti lungo, della vita.